Ciao ragazze e benvenuti su Tartisia, oggi parleremo di capelli lucidi. Come avere capelli lucidi? Semplice, con un rimedio fai da te. Se volete capelli lucidi, brillanti e luminosi, alla fine di ogni shampoo risciacquate i capelli con due cucchiai di aceto. E il gioco è fatto. Quindi ogni volta che fate lo shampoo potete risciacquare i capelli con un po' di aceto e noterete subito la differenza, avrete capelli lucidi, brillanti e luminosi. Un altro rimedio molto efficace è il limone. Cioè, prima di risciacquarli questa volta, applicate il succo del limone, lasciate agire per un minuto, un minuto e mezzo e poi risciacquate i vostri capelli. E i capelli diventeranno veramente luminosi. Però il limone dovete sapere che un po' coschiarisce i capelli. Quindi vedete un po' voi qual è il rimedio più alla vostra portata. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Vi rimando al prossimo video e vi mando un bacione. Ciao ragazze! Ciao ragazze! Grazie a tutti.